Allora oggi riprendiamo un discorso fatto precedentemente su questa Audi SQ8 dove abbiamo fatto un upgrade rispetto al discorso centralina che abbiamo visto precedentemente seguitici nel video e vedete cosa abbiamo fatto Ho finalmente arrivato allo Skyco Super Sprint per la SQ8 e siamo ansiosi di portarlo giù in officina, di montarlo e di vedere il risultato finale Allora nello specifico qui cosa abbiamo? Un tubo centrale che è questo, un tutto tubo che va a eliminare un silenziatore centrale qui abbiamo, vabbè impacchettato però comunque si capisce, il terminale che andrà composto quindi andrà aggiuntati vari tubi, è un terminale tutto tubo racing per avere appunto una sonorità al più possibile ottimizzata e queste sono le quattro curvettine che si andranno ad aggiuntare nelle uscite che rimarranno quelle di serie della macchina quindi come dicevo siamo molto ansiosi, vista la qualità appunto dei prodotti Super Sprint di montarlo e vi faremo poi sentire il risultato finale Allora come avete visto nella premessa abbiamo utilizzato una linea di scarico della Super Sprint è una ditta con la quale noi collaboriamo da tanti anni dove fanno scarichi sportivi su misura praticamente per tutte le macchine diciamo che la differenza di Super Sprint rispetto ad altri concorrenti all'ilà della componentistica è che Super Sprint ha un catalogo veramente infinito cioè non ho mai trovato un fornitore di scarichi così completo appunto come Super Sprint Detto questo riprendiamo il discorso di questa SQ8 che avevamo visto in un video precedente dove eravamo intervenuti inizialmente con il discorso centraline quindi macchina da 507 cavalli abbiamo messo due centraline elettroniche perché appunto questa macchina ha due centraline quindi abbiamo dovuto mettere due seletron aumentando la potenza di altri 57 cavalli e 68 Nm di coppia adesso il cliente ci ha chiesto a step ovviamente perché sono comunque lavori uno costosi ovviamente e due anche per apprezzare di volta in volta quali sono gli incrementi quindi il punto di arrivo finale sarà fare un lavoro completo arrivare a fare uno stage 2 che riguarderà anche la turbina che riguarderà anche altri componenti più i catalizzatori metallici e quant'altro per il momento siamo a metà dell'opera quindi come avete visto nella premessa abbiamo montato in sostanza due terzi del linee di scarico cioè un centrale diretto un terminale cosiddetto racing e le curve che si vanno a giuntare sulle uscite di serie quindi queste sono le uscite di serie dove all'interno ci sono delle curve che si vanno a insertare siccome queste sono belle era inutile andare a modificare quello che è questa estetica qua questo è il terminale di serie adesso gli altri pezzi li abbiamo caricati in macchina giusto per far vedere quello che abbiamo montato noi che voi avete visto scomposto fra l'altro anche in cartato non si vedeva benissimo però comunque in sostanza è un tutto tubo quindi la differenza tra questo silenziatore qua e quello che abbiamo montato noi è netta questo terminale in più aveva le valvole di controllo che noi abbiamo scollegato quindi adesso vi facciamo sentire il sound diciamo con lo scarico originale montato ecco come vi dicevo avete sentito il video del sound originale adesso Mirko accende la macchina e sentiamo il risultato finale quindi come avete sentito il risultato è netto è decisamente diverso molto più corposo molto più strutturato come rumore ovviamente questo 4000 di cilindrata è ovvio che la sonorità cambia radicalmente rimane sempre comunque nei limiti di una rumorosità non particolarmente eccessiva però la differenza è netta e radicale e questo appunto ripeto garantito come dicevo grazie alla qualità dei prodotti super sprint e ovviamente alla tipologia di motore io direi che anche per questo step è tutto poi ci aggiorneremo via via che ne faremo altri comunque per il momento siamo a metà dell'opera per il momento è tutto come di consueto vi invitiamo a visitare il sito www.nelgiri.it soprattutto consultando l'archivio elaborazione dove abbiamo superato le 3500 schede vettura mi raccomando qualunque informazione qualunque esigenza mi potete contattare in sede 0273 83175 dal lunedì al venerdì io sono sempre lì e ricevo centinaia di telefonate anche solo per dei consigli vi chiediamo di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima